Conteggi in crescita in tutte le zone d'Italia e l'Abruzzo non fa differenza. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici di oggi è infatti pari al 7,1%. Solo 515 nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore nella nostra regione sono emersi dall'analisi di 5836 tamponi molecolari. Si registrano 11 decessi che fanno salire il bilancio delle vittime a 1883. A fronte di una lieve riduzione dei ricoveri continuano ad aumentare le terapie intensive che arrivano a quota 92 raggiungendo il nuovo record. I nuovi positivi hanno età compresa tra 4 mesi e 96 anni. Quelli con età inferiore ai 19 anni sono 123 di cui 11 in provincia dell'Aquila, 41 in provincia di Peschara, 46 in provincia di Chiedi e 25 in provincia di Teramo. Gli 11 decessi, due dei quali relativi ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL riguardano persone di età compresa tra 63 e 99 anni, 4 in provincia di Chiedi, 6 in provincia di Peschara e 1 in provincia dell'Aquila. Gli attualmente positivi sono 12.910 più 12. 652 pazienti, meno 9, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 92 più 1 con 11 ricoveri sono in terapia intensiva, mentre gli altri 12.166 più 20 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 44.653 più 492. Le località con più nuovi casi sono Pescara, 43 e Montesilvano, 33 e Atessa, 21. 18 i casi a Teramo, 17 a Chiedi, 13 all'Aquila. A livello provinciale l'incremento più consistente si registra nel Chietino, 173, seguito dal Pescarese 151, dal Teramano 103 e dall'Aquilano 80. Dati questi inseriti in un panorama nazionale che vede la regione Abruzzo ad un indice di RT leggermente sopra la soglia di 1, toccando quota 1,05. Dati questi dell'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità, Ministero della Salute e relativi alla settimana che va dal 1 al 7 marzo. 16 regioni hanno un RT maggiore di 1, tra queste 8, Campania, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Basilicata, Lombardia, Lazio e Veneto hanno un RT con il limite inferiore e superiore a 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3. Quattro regioni hanno un RT nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre regioni hanno un RT compatibile con uno scenario di tipo 1. RT settimanale sotto 1 in Calabria, provincia autonoma di Bolzano, Sardegna e Umbria, il valore più alto in Basilicata con un RT di 1,53 e in Campania di 1,50. Il Friuli Venezia Giulia registra un RT di 1,39, l'Emilia Romagna di 1,34, il Piemonte di 1,41, il Lazio di 1,31 e la Lombardia di 1,3.